La cattedrale della nostra città, in ogni caso, fu pressoché riempita dai fedeli per tutta la settimana. I primi giorni molti abitanti restavano ancora nei giardini di Palmizzi e di Melograni che si stendono davanti al portico, per ascoltare la marea di invocazioni e di preghiere che rifluivano sì nelle strade. A poco a poco, con l'aiuto dell'esempio, gli stessi ascoltatori si decisero a entrare e a unire una timida voce ai responsi dell'adunanza. E la domenica, una folla considerevole, invase la navata, traboccandosi nel vestibolo e sugli ultimi gradini. Dalla vigilia il cielo si era oscurato, la pioggia cadeva a scrosci, quelli che stavano fuori avevano aperto gli ombrelli. Un odore di incenso e di stoffa bagnata ondeggiava nella cattedrale quando padre Panle montò in pulpito. Era di corporatura media, ma robusto. Quando si appoggiò all'orlo del pulpito, stringendo il legno tra le grosse mani, non si vede di lui che una forma spessa e nera, cui sovrastavano le due macchie delle guance rubiconde sotto gli occhiali di metallo. Aveva una voce forte, appassionata, che si sentiva lontano, e quando attaccò l'uditorio, con una sola frase, vehemente martellata, «Fratelli miei, voi siete nella sventura, fratelli miei, voi lo avete meritato». Un fremito percorse l'uditorio sino al vestibolo. Logicamente, quello che seguiva non sembrò intonarsi al patetico esordio, ma il seguito del discorso fece poi intendere ai nostri concittadini che, con abile procedimento oratorio, il padre aveva dato in una sola volta, come si vibra un colpo, il tema di tutta la sua predica. Panle, subito dopo quella frase, infatti, citò il testo dell'Esodo relativo alla peste in Egitto e disse «La prima volta che il flagello appare nella storia è per colpire i nemici di Dio. Faraone si oppone ai disegni eterni e la peste, allora, lo fa cadere in ginocchio. Dal principio di ogni storia, il flagello di Dio mette ai suoi piedi gli orgogliosi e gli accecati. Meditate e cadete in ginocchio». Di fuori la pioggia raddoppiava e quest'ultima frase, pronunciata in mezzo a un silenzio assoluto, reso ancora più profondo dal crepitio dell'acquazzone sulle vetrate e cheggiò con tale accento che alcuni ascoltatori, dopo un attimo di incertezza, si lasciarono scivolare dalla sedia sull'inginocchiatoio. Altri credettero che bisognasse seguirne l'esempio, si chieda un vicino all'altro, senza altro rumore che lo scricchiolio di qualche sedia. In breve tutto l'uditorio si trovò in ginocchio. Allora Paul Le, raddrizzatosi, respirò profondamente e ricominciò, in un tono sempre più accentuato. «Se oggi la peste vi guarda, vuol dire che il momento di riflettere è venuto. I giusti non possono temere, ma i malvagi hanno ragione di tremare. Nell'immenso granaio dell'universo, il flagello implacabile batterà la messe umana sino a che la paglia sia divisa dal grano. Ci sarà più paglia che grano, ci saranno più chiamati che letti e la sventura non è stata voluta da Dio. Troppo a lungo il mondo è venuto a patti col male, troppo a lungo si è riposato sulla misericordia divina. Bastava il pentimento, tutto era permesso e per il pentimento ciascuno si sentiva forte. Venuto il momento lo si proverebbe sicuramente, di qui la cosa più facile era lasciarsi andare, la misericordia divina avrebbe fatto il resto». Ebbene, questo non poteva durare. Dio, che per tanto tempo ha chinato sugli uomini di questa città il suo volto di pietà, stanco di aspettare, deluso nella sua eterna speranza, ora ne ha distolto lo sguardo. Privi della luce di Dio, eccoci per molto tempo nelle tenebre della peste. Nella chiesa qualcuno sbuffò come un cavallo impaziente. Dopo una breve pausa il padre ricominciò in dono più basso. Si legge nella leggenda la Aurea che ai tempi di re a Umberto in Lombardia, l'Italia fu devastata da una peste si violenta che appena i vivi bastavano a seppellire i morti e la peste infieriva soprattutto a Roma e a Pavia. E un angelo buono visibilmente apparve e dava ordini all'angelo cattivo, che impugnava una lancia da caccia, gli ordinava di battere sulle case e per quanti colpi riceveva una casa, tanti morti ne uscivano. Qui Palle tese le corte braccia nella direzione del vestibolo, come se indicasse qualcosa dietro il mobile velario della pioggia. «Fratelli miei», disse con forza, «è la stessa caccia mortale che si corre oggi nelle nostre strade. Guardatelo, l'angelo della peste, bello come Lucifero e radioso come il male stesso, dritto al di sopra dei vostri tetti, con la mano destra che solleva la rossa lancia a livello della sua testa e con la sinistra indica una delle vostre case. In quest'attimo, forse, il suo dito si tende verso la vostra porta, la lancia risuona sul legno. In quest'attimo, ancora, la peste entra da voi, si siede nella vostra camera e aspetta il vostro ritorno. Essa è la paziente e penosa, certa come l'ordine stesso del mondo. La mano che vi tenderà nessuna potenza terrestre e nemmeno, sappiatelo bene, la vana scienza degli uomini potrà farvela evitare. E battuti sulla sanguinosa via del dolore, sarete buttati via insieme con la paglia. Il padre qui riprese con maggiore ampiezza l'immagine patetica del flagello. Evocò l'immensa trave di legno che roteava al di sopra della città, colpiva a caso sollevandosi sanguinante e infine sparpagliava il sangue e il dolore umano per le sementi che prepareranno le messi della verità. Alla fine del lungo periodo, padre Palleux si fermò coi capelli sulla fronte, il corpo agitato da un tremitio che le mani comunicavano al pulpito e ricominciò più sordamente ma con un tono d'accusa. Sì, l'ora di riflettere è avvenuta. Voi avete creduto che vi basterebbe visitare Dio la domenica per essere liberi dei vostri giorni. Avete pensato che alcune genuflessioni lo ripagassero abbastanza della vostra incuria criminale. Ma Dio non è tepido. Questi rari rapporti non bastavano al suo divorante affetto. Vi voleva vedere più a lungo e la sua maniera di amarvi è, a dire la verità, è la sola maniera di amare. E per questo, stanco di aspettare la vostra avvenuta, ha lasciato che il flagello visitasse come ha visitato tutte le città del peccato, da che gli uomini hanno una storia. Adesso voi sapete cosa sia il peccato, come lo hanno saputo Caino e i suoi figli, quelli di prima del diluvio, quelli di Sodoma e Gomorra, Faraone e Giobbe e anche tutti i maledetti. E come tutti costoro hanno fatto, uno sguardo nuovo voi rivolgete sulle creature e sulle cose dal giorno che questa città ha chiuso le sue mura intorno a voi e al flagello. Adesso voi sapete, finalmente, che bisogna giungere all'essenziale. Un vento umido ora si ingolfava sotto la navata e le fiamme dei ceri si curavano raggrinzendosi. Un denso odore di cera, dei colpi di tosse, un sternuto salirono verso padre Palleux che, tornando sulla sua esposizione con una sottigliezza che fu apprezzatissima, ricominciò con voce calma. Molti di voi, lo so, si domandano giustamente dove voglio arrivare. Voglio farvi avvicinare alla verità e insegnarvi a essere lieti, nonostante tutto quello che ho detto. Non è più il tempo in cui i consigli, una mano fraterna, erano i mezzi per spingervi al bene. Oggi la verità è un ordine e la via della salvezza, una lancia rossa, ve la mostra e vi ci spinge. E qui, fratelli miei, si manifesta la divina misericordia che ha messo in ogni cosa il bene e il male, la collera e la pietà, la peste e la salvezza. Lo stesso flagello che vi tormenta vi eleva e vi mostra la via. Molto tempo fa i cristiani di Abbassinia vedevano nella peste un mezzo efficace, d'origine divina, per guadagnare l'eternità. Quelli che non erano contagiati si avvoltolavano nelle lezzuola degli appestati per morire a ogni costo. Certo che questo furore di salvezza non è raccomandabile, indica una riprovevole precipitazione molto vicina all'orgoglio. Non bisogna aver più fretta di Dio e tutto quello che pretende di accelerare l'ordine immutabile da lui stabilito una volta per sempre conduce all'eresia. Ma almeno questo esempio comporta una lezione. Ai nostri spiriti più chiaroveggenti mette soltanto in rilievo il prezioso bagliore d'eternità che giace in fondo a ogni sofferenza. Illumina questo bagliore i crepuscolari sentieri che menano alla liberazione, manifesta la volontà divina che senza mancamenti trasforma il male in bene. Oggi ancora, per questo tragitto di morte, d'angosce e di clamori, ci guida verso il silenzio essenziale e vero, il principio di ogni vita. Ecco, fratelli miei, l'immensa consolazione che volevo recarvi sì che non siano soltanto parole di castigo quelle che porterete via da qui, ma anche un verbo che acquieta. Si sentiva che il palloio aveva finito. Fuori la pioggia era cessata. Un cielo d'acqua e insieme di sole riversava sulla piazza una più giovane luce. Dalla strada saliva uno strepitio di voci, di corse e di veicoli, tutto il linguaggio della città che si sveglia. Gli ascoltatori radunavano discretamente le loro cose in un sordo tramestio. Il padre, tuttavia, riprese la parola e disse che, dopo aver mostrato l'origine divina della peste e il carattere punitivo del flagello, aveva terminato e, per la conclusione, non avrebbe fatto appello a un'eloquenza che sarebbe stata fuori posto in una sì tragica materia. Gli pareva che tutto doveva essere chiaro a tutti. Ricordo soltanto che, in occasione della grande pestilenza di Marsiglia, il cronista Mathieu Marais si era lagnato di essere sprofondato nell'inferno, a vivere senza ausilio e senza speranza. Ebbene, Mathieu Marais era accecato. Mai più d'oggi, all'incontrario, padre Palleux aveva sentito l'ausilio divino e la fiducia cristiana offrirsi a tutti. Sperava contro ogni speranza che, nonostante l'orrore di quei giorni e le grida dei moribondi, i nostri concittadini avrebbero rivolto al cielo la sola parola che fosse cristiana, una parola d'amore. Dio avrebbe fatto il resto. Se la predica abbia avuto effetto sui nostri concittadini è difficile dirlo. Il giudice istruttore Houghton dichiarò al dottor Rieu che aveva trovato il discorso di padre Palleux assolutamente inconfutabile. Ma non tutti avevano un'opinione sicategorica. Semplicemente la predica rese più sensibili a molti l'idea vaga sino ad allora che essi erano condannati per una colpa ignota a un inconcepibile imprigionamento. E mentre gli uni continuavano la loro piccola vita adattandosi alla clausura, per altri invece da allora in poi l'unica idea fu quella di evadere dalla prigione. Sul principio la gente aveva accettato di essere isolata dall'esterno come avrebbe accettato una qualunque temporanea noia che non disturbasse se non alcune delle loro abitudini. Ma fatti coscienti all'improvviso di una sorta di sequestro sotto il coperchio del cielo dove cominciava a lievitare l'estate e sentivano confusamente che la reclusione minacciava tutta la loro vita e, venuta la sera, l'energia che ritrovavano con la frescura li spingeva talvolta ad atti disperati. Prima di tutto, che sia stato o no per effetto di una coincidenza, a cominciare da quella settimana, vi fu nella nostra città una pura sì generale e profonda da far supporre che i nostri concittadini cominciassero davvero ad avere coscienza della loro situazione. Da questo punto di vista l'area da città si modificò, ma in verità la questione è se il mutamento fosse nell'aria o nei cuori. Pochi giorni dopo la predica Rieu, che commentava l'avvenimento con Gron, dirigendosi verso i sobborghi Urtò di notte contro un uomo che si dondolava davanti a loro senza tentare di muoversi. In quello stesso momento i fanali della nostra città, che si accendevano sempre più tardi, brillarono all'improvviso. La lampada posta in alto dietro ai passanti illuminò di colpo l'uomo che rideva senza voce, con gli occhi chiusi. Sul volto biancastro, disteso da una muta ilarità, il sudore collava in grosse gocce. Andarono oltre. «È un pazzo», disse Grand. Rieu, che gli aveva preso il braccio per trascinarlo, sentì che l'impegnato tremava nervosamente. «Tra breve non ci saranno che pazzi dentro le nostre murra», fece Rieu. Anche per la stanchezza si sentiva la gola secca. «Beviamo qualcosa». Nel caffèuccio in cui entrarono, illuminato da una sua lampada, lì sopra della cassa. La gente parlava a voce bassa, senza una ragione palese. Nell'aria densa e rosastra. Al banco, Grand, con meraviglia del dottore, ordinò un liquore che beve d'un fiato, dichiarando che era forte. Poi velo uscire. Fuori sembrava Rieu che la notte fosse piena di gemiti. In qualche zona del cielo nero, lì sopra dei fanali, un sibilo sordo, gli ricordò l'invisibile flagello che agitava instancabilmente l'aria calda. «Per fortuna, per fortuna», disse Grand. Rieu si domandava cosa volesse dire. «Per fortuna», diceva l'altro, «ho il mio lavoro». «Sì», disse Rieu, «è un vantaggio». E, deciso di non ascoltare il sibilo, domandò a Grand se fosse contento del suo lavoro. «Ebbene, credo di essere sulla buona strada. Ne è ancora per molto?» Grand sembra animarsi. Il calore dell'alcol gli passò nella voce. «Non so, ma la questione non è qui, dottore, non è qui la questione, no». Nel buio, Rieu indovinò le sue braccia che si agitavano. Sembrava preparasse qualcosa che venne all'improvviso, con volubilità. «Quello che voglio vede, dottore, è che il giorno in cui il manoscritto arriverà all'editore, questi, dopo averlo letto, si alzi e dica ai suoi collaboratori. Signori, giù il cappello». La subitane dichiarazione sorprese Rieu. Gli sembrò che il suo compagno facesse il gesto di scoprirsi, portando la mano al capo e allungando poi residualmente il braccio. Lassù, lo strano sibilo sembrava riprendere con maggior forza. «Sì», diceva Grand, «deve essere una cosa perfetta». Sebbene poco informato sugli usi letterari, Rieu aveva l'impressione che la faccenda non doveva svolgersi tanto semplicemente e che, ad esempio, gli editori nei loro uffici non dovevano tenere il cappello in testa. Ma, in ogni caso, non si sa mai e Rieu preferì tacere. Suo malgrado prestava orecchio ai misteri rumori della peste. Si avvicinavano al quartiere di Grand e, siccome era un po' in altura, un leggero vento li rinfrescava e nello stesso tempo purificava la città di tutti i suoi rumori. Intanto, Grand continuava a parlare e Rieu non tutto afferrava dei discorsi del bravo uomo. Intese soltanto che la sua opera constava ormai di molte pagine, ma che la pena datasi dall'autore per condurla a perfezione gli era dolorosissima. Serate, settimane, interessa una parola e talvolta una semplice congiunzione. Qui Grand si fermò prendendo il dottore per un bottone del sopravvito. Le parole uscivano vacillanti dalla sua bocca sdentata. Mi intenda bene, dottore, a rigore. È assai facile scegliere tra ma ed e. La difficoltà aumenta con poi e quindi. Ma certamente la cosa più difficile è sapere se bisogna mettere una E o se non bisogna. Sì, disse Rieu, capisco. E incominciò a camminare. L'altro sembrò confuso. Di nuovo lo raggiunse. Mi scusi, barbugliò. Non so che cos'ho stasera. Rieu gli batte piano sulla spalla e gli disse che desiderava aiutarlo, che la sua storia lo interessava molto. L'altro sembrò un po' rasserenato e, giunto davanti a casa dopo qualche incertezza, invitò il dottore a salire un momento. Rieu accettò. Nella sala da pranzo, Grand lo pregò di sedere a un tavolo pieno di fogli coperti di cancellature su una microscopica calligrafia. Sì, è questo, disse Grand al dottore, che lo interrogava con lo sguardo. Ma non vuole bere qualcosa? Ho un po' di vino. Rieu rifiutò, guardava i fogli di carta. Non guardi, disse Grand, è la mia prima frase e mi fa soffrire molto soffrire. Anche lui contemplava i fogli e la sua mano sembrò invincibilmente attirata da uno che levò in trasparenza davanti alla lampadina elettrica senza paralume. Il foglio gli tremava in mano. Rieu osservò che la fronte dell'impiegato era Amadida. Siede gli disse, a me la lega. L'altro lo guardò sorridendo con una sorta di gratitudine. Sì, disse, credo di averne voglia. Indugiò un po' sempre guardando il foglio, poi sedette. Rieu intanto ascoltava una sorta di ronzio confuso che nella città sembrava rispondere ai simili del flagello. Aveva in quel momento una percezione straordinariamente acuta della città di sese ai suoi piedi, del mondo chiuso che costituiva e dei terribili urli che soffocava nella notte. La voce di Grand si levò sordamente. Una bella mattina del mese di maggio, un elegante ammazzone percorreva, sopra una superba giumente saura, i viali fioriti del Bois de Boulogne. Tornò in silenzio e con esso indistinto rumore della città soffrente. Grand aveva posato il foglio e continuava a contemplarlo. Dopo un minuto alzò gli occhi. Che cosa ne pensa? Rieu rispose che il principio lo incuriosiva del resto, ma l'altro disse che un tale punto di vista non era quello giusto e batte le carte col palmo della mano. Questa non è che un'approssimazione. Quando sarò arrivato a rendere perfettamente il quadro che ho nella fantasia, quando la mia frase avrà la stessa andatura di quella passeggiata al trotto 1-2-3 a 1-2-3, allora il resto sarà più facile e soprattutto l'illusione sarà tale sin dal principio da far dire giù il cappello. Ma per questo aveva ben altro in serbo. Nemmai avrebbe consentito ad abbandonare quella frase tale e quale a un tipografo. Infatti, nonostante la soddisfazione che talvolta gli dava, si rendeva conto che non aderiva ancora del tutto alla realtà e che in una certa misura serbava una facilità di tono che la imparentava alla lontana, ma tuttavia la imparentava con un modo bellefatto. Era almeno il senso di quanto diceva quando si sentirono degli uomini correre sotto le finestre. Rieu si alzò. Vedrai quello che ne faccio, diceva Gron, e aggiunse voltandosi verso la finestra, quando tutto sarà finito. Ma i rumori di passi precipitati rincominciarono. Rieu stava ormai scendendo e due uomini passarono avanti a lui quando fu nella strada. Pareva che andassero verso le porte della città, infatti alcuni dei nostri concittadini, perduta la testa tra il caldo e la peste, si erano lasciati andare alla violenza e avevano cercato di eludere la vigilanza degli sbarramenti per evadere dalla città. Anche altri, come Rambert, cercavano di fuggire da quell'atmosfera di panico incipiente, ma con maggiore ostinazione e accortezza, seppure non con maggiore successo. In un primo tempo Rambert aveva continuato a percorrere le vie ufficiali. A suo dire, l'ostinazione aveva sempre la meglio su tutto e per certi versi essere un tipo sveglio faceva parte del suo lavoro. Aveva così fatto visita una gran quantità di funzionari e di persone la cui competenza era solitamente fuori in discussione. Nel caso specifico, però, tale competenza era del tutto inutile. Si trattava il più delle volte di uomini con le idee chiare e ben definite su ciò che riguardava le banche, l'esportazione, gli agrumi o il commercio dei vini, che possedevano conoscenze indiscutibili sui problemi di contenziosi o di assicurazioni, oltre a solidi titoli di studio e un'indubbia buona volontà. Anzi, più che il più colpiva in tutti loro era la buona volontà. In tema di peste, però, le loro conoscenze erano pressoché nulle. Eppure, avanti a ciascuno di loro, e ogni volta che era stato possibile, Rambert aveva perorato la sua causa. Il succo era sempre che lui era estraneo alla nostra città e che quindi il suo caso doveva essere esaminato a parte. I perlocutori del giornalista convenivano, ma in genere gli facevano presente che in quella situazione si trovava un gran numero di persone e che pertanto il suo caso non era eccezionale come credeva. Rambert a quel punto poteva rispondere che questo non cambiava il succo della questione e loro rispondevano che però qualcosa cambiava quanto agli ostacoli amministrativi che si opponevano a qualunque misura di favore suscettive di creare ciò che costoro chiamavano, con una smorfia di somma ripugnanza, un precedente. Secondo la classificazione che Rambert propose al dottor Rieu, questo genere di sofisti costituivano la categoria dei formalisti. Accanto a loro si annoveravano i parlantieri, i quali assicuravano il postulante che la situazione non sarebbe durata a lungo, e prodighi di buon consiglio anziché delle decisioni che da loro ci si aspettava, consolavano Rambert asserendo che si trattava soltanto di una seccatura temporanea. C'erano poi gli importanti, i quali pregavano il visitatore di rilasciare una dichiarazione scritta sul suo caso e lo informavano che avrebbero un seguito deliberato sul caso benesimo, i futili che gli proponevano buoni alloggio, i metodici che facevano compilare un modulo e poi lo protocollavano, gli oberati che alzavano le braccia al cielo e gli importunati che lo distoglievano lo sguardo. Infine c'erano i tradizionali, di gran lunga e più numerosi, che indicavano a Rambert un altro ufficio o una nuova trafila. Così il giornalista si era speso in un'infinità di visite e a forza di aspettare su un divanetto di similpele davanti a grandi manifesti che invitavano a sottoscrivere buoni del tesoro, esinti da imposte o ad arruolarsi nell'esercito coloniale e a forza di entrare in uffici dove i volti erano prevedibili come lo schedario a cassetti e gli scaffali di faldoni, si era fatto un'idea precisa di cosa potesse essere un ufficio comunale o una prefettura. Il vantaggio, diceva Rambert a Rio con una sfumatura di amarezza, era che tutto questo li nascondeva la vera situazione. I progressi concreti della peste li sfuggivano, senza contare che così i giorni bastavano più in fretta e nella situazione in cui si trovava l'intera città si poteva dire che ogni giorno trascorso avvicinava ciascun uomo, a condizione che non morisse, alla fine delle sue traversie. Rio dovete ammettere che questo punto era vero, benché si trattasse di una verità un po' troppo generica. A un certo momento Rambert nutri qualche speranza. Aveva ricevuto dalla prefettura un modulo anagrafico in bianco da compilare integralmente. Il modulo chiedeva i dati personali, lo stato civile, il rendito, passato attuale e quel che ne definivano il suo curriculum. Si fece l'idea che si trattasse di un'indagine atta a censire le persone che potevano essere autorizzate a tornare nel luogo di residenza. Tale impressione fu corroborata dalle poche confuse informazioni raccolte presso qualche impiegato, ma con una complicata trafila riuscì a rintracciare l'ufficio che aveva smedito il modulo e gli dissero allora che quelle informazioni erano state raccolte nell'eventualità. Nell'eventualità di cosa? Domandò Rambert. Gli fu allora precisato che era nell'eventualità si fosse ammalato di peste e ne fosse morto, affinché potessero per un verso avvisare i familiari e per un altro verso sapere se le spese ospedaliere fossero da considerarsi a carico del comune o se viceversa se le potesse attendere il rimborso della famiglia. Evidentemente ciò dimostrava che non era del tutto da separato da quale che lo aspettava dal momento che la società si occupava di loro, ma non era una consolazione. La cosa degna di nota e che infatti Rambert notò era come nel pieno di una catastrofe un ufficio continuasse a svolgere le proprie funzioni e a prendere iniziative di salente a una fase pregressa, sovente all'insegna delle alte sfere, per il semplice motivo che il suddetto ufficio era previsto per tali funzioni. Il periodo che seguì fu per Rambert insieme al più facile e al più difficile. Era un periodo all'insegna dell'intorpidimento. Aveva girato tutti gli uffici, battuto tutte le strade possibili, su quel fronte per ora non c'erano via di uscita. Allora vagava da un caffè all'altro. Al mattino si sedeva a un tavolino davanti a un bicchiere di birra tiepida. Leggeva un giornale con la speranza di trovarvi qualche segno di una fine imminente della malattia. Guardava i volti dei passanti, si indostoglieva con olore alla loro espressione di tristezza e dopo aver letto per la centesima volta l'insegna dei negozi che aveva di fronte e la pubblicità dei grandi aperitivi che ormai non si servivano più, si alzava e camminava a caso per le vie gialle della città. Così tra una passeggiata solitaria e un caffè e un caffè a un ristorante tirava sera. Rio lo intravide, proprio una sera alla porta di un caffè dove il giornalista esitava entrare. Parve poi decidersi e andò a sedersi in fondo alla sala. Era l'ora in cui nei caffè, obbedendo a ordini venuti dall'alto, si ritardava il più possibile il momento di accendere le luci. Il crepuscolo invadeva la sala come un'acqua grigia, il rosa del tramonto si rifletteva nelle vetrate e il marmo dei tavoli riluceva appena nel buio incommente. Nella sala diserta Rambert sembrava un'ombra sperduta e Rio pensò che questa era per lui l'ora dello sconforto. Ma era anche il momento in cui tutti i prigionieri della città avvertivano il proprio e occorreva fare qualcosa per affrettare il momento della liberazione. Rio se ne andò. Rambert trascorreva anche lunghi momenti alla stazione. L'accesso ai binari era vietato, ma le sale d'aspetto cui si entrava dall'esterno rimanevano aperte e nelle giornate molto calde erano talora occupata da qualche mendicante, poiché erano ombrose e fresche. Rambert veniva a leggere vecchi orari, i cartelli che evitavano di sputare il regolamento della polizia ferroviaria. Poi si sedeva in un angolo. La sala era buia. Una vecchia stufa di ghisa si raffreddava da mesi in mezzo ai calchi a otto di antiche irrigazioni. Appesi al muro, alcuni manifesti invitavano una vita felice e libera amando l'Oacan. Rambert sperimentava qui quella sorta di spaventosa libertà che si scopre quando si è ormai privati di tutto. Le immagini che allora gli erano più difficili da sopportare, stando almeno a ciò che diceva Rio, erano quelle di Parigi. Un paesaggio di vecchie pietre di acqua, i piccioni del Palais Royal, la Garde du Nord, i quartieri deserti intorno al Pantheon e qualche altro luogo di una città che non sapeva di aver amato tanto perseguitavano Rambert e gli impedivano di fare alcunché di preciso. Rio pensava soltanto che lui identificava tale immagini con quelle del suo amore. Il giorno in cui Rambert gli disse che amava svegliarsi alle 4 del mattino e pensare alla sua città, il dottore tradusse subito dal profondo della propria esperienza che in quel momento lui amava immaginare la donna che aveva lasciato. Era infatti l'ora in cui poteva impadronirsi di lei. Nessuno fa niente in genere alle 4 del mattino, anche se la notte è stata una notte di tradimento. A quell'ora tutti dormono ed era sicurante poiché il grande desiderio di un cuore inquieto e possedere ininterrottamente l'essere amato, o poterlo fare o piombare, quando giunge il tempo dell'assenza, in un sonno senza sogni che abbia fine solo il giorno del ricongiungimento.